Buongiorno a tutti, oggi 27 gennaio 2020, giornata della memoria, come sapete il giorno dedicato a la commemorazione di un evento tragico della storia mondiale, cioè la Shoah. Si è tornato a parlare in questi giorni, l'ho sentito anche sui notiziari, su approfondimenti in tv e sui social, della questione dei diritti d'autore su il diario di Anna Frank, cioè una delle opere letterarie più rappresentative di questo tema. Lasciatemi chiarire un attimo, nel senso che la storia io la racconto spesso quando faccio i miei corsi e credo che questa sia l'occasione giusta per ritornarsi. In realtà la storia è stata commentata e circolata in vari articoli nel 2016, perché vi spiego cos'era successo. Sostanzialmente voi sapete che, probabilmente magari un po' da sentito dire, un po' perché seguite magari i miei canali social, i miei iscritti, i miei articoli, il diritto d'autore tradizionalmente dura 70 anni dalla morte dell'autore, dura per 70 anni dalla morte dell'autore. Vuol dire che una volta morto l'autore si devono contare 70 anni solari e poi dal primo gennaio dell'anno successivo l'opera viene considerata in pubblico dominio, cioè l'opera diventa patrimonio di tutti, diventa liberamente utilizzabile da chiunque senza dover chiedere il permesso, senza dover preoccuparsi di diritti di esclusiva a carico a favore di qualcuno. Ed è fu esattamente quello che è successo nel 2016, perché voi sapete Anna Frank morì per mano dei carnefici nazisti nel 1945, ergo i 70 anni della morte scadevano proprio il primo gennaio del 2016, quindi non molti anni fa. Già dal secondo giorno, cioè già dal 2 di gennaio, iniziarono a circolare in rete versioni in lingua olandese, cioè la lingua originale in cui è stato scritto il libro, il diario di Anna Frank, su dei blog, su dei siti web, ovviamente a tema, sul tema della commemorazione dell'olocausto degli ebrei, indicando queste opere, queste copie, come opera in pubblico dominio. Successe però che pochi giorni dopo fu diffusa e arrivò ai soggetti che avevano pubblicato l'opera in olandese e fu diffusa anche come notizia, la lettera di diffida di uno studio legale che si faceva portavoce degli interessi e tutelava gli interessi della famiglia Frank e della fondazione che adesso gestisce i diritti d'autore, diritti d'autore, diritti esclusivi in generale sulle opere legate a questo diario, in questo libro, nella quale ovviamente in questa lettera di diffida veniva richiesta la rimozione immediata di queste copie. Perché? Perché secondo quanto sostenuto da questi avvocati l'opera non era davvero caduta in pubblico dominio, nonostante fossero passati 70 anni dalla morte della sua, fra virgolette, adesso poi vi spiego perché metto le virgolette, della sua autrice. Cosa successe? Che appunto, secondo quanto dichiarato in questa lettera di diffida, secondo quanto era già stato dichiarato in precedenza, insomma, è un dibattito che chi ha seguito un po' la vicenda di Anna Frank e della sua famiglia forse l'aveva già sentito, il libro che noi siamo abituati a leggere, che ci è stato fatto leggere più o meno a tutti, al liceo o in ambito, o addirittura forse nella scuola media, quel libro è in realtà una versione derivata, una versione rielaborata da parte del padre Otto Frank, che sopravvisse a Anna Frank e quindi, e quindi, secondo anche proprio il buon senso della logica, diventando lui coautore dell'opera, perché ha operato un intervento diciamo creativo, autorale, su un'opera precedentemente realizzata da sua figlia, diciamo la scadenza dei 70 anni non andava calcolata dalla data di morte di Anna, ma dalla data di morte del padre di Otto Frank, che adesso vi posso dire, non l'avevo preparata, però basta cercare, ecco, è morto, il 19 agosto del 1980, quindi capite quanta differenza. Ecco, perché io racconto questa storia quando faccio i miei corsi? Perché faccio capire quanto il tema del pubblico dominio sia un tema complesso, cioè il principio generale secondo cui basta contare 70 anni e poi l'opera è libera, la possono usare chiunque, è appunto la versione molto edulcorata e molto semplificata di questo principio, ma nelle opere, per il calco delle opere, della caduta delle opere nel pubblico dominio, spesso vengono incaricati dei legali, a parte anche del mio lavoro, spesso i clienti, soprattutto case editrici, mi chiedono di fare questo tipo di verifiche perché non è sempre così facile, non è sempre così semplice capire quando un'opera è in pubblico dominio, mentre dal lato, come insegna questa storia, è facile cadere in equivoci, in tranelli come questo. Poi in realtà qui la questione non era davvero così limpida, perché appunto secondo alcuni gli interventi di Otto Frank non erano stati così determinanti da renderlo coautore dell'opera, dargli un ruolo autorale vero e proprio e dunque non dovrebbe essersi il problema del calcolo dei 70 anni dalla data del 1980, ma invece si tornerebbe al calcolo fatto appunto da questi poveri, ingenui, primi diffusori del diario del 2016, cioè che avranno considerato l'opera unicamente farina del sacco di Anna, cioè creata unicamente da Anna e quindi caduta in pubblico dominio già nel 2016. Niente, se volete poi approfondire tutta la vicenda che ci sta dietro, è stato molto interessante, mi sono letto un paio di articoli, molto interessante appunto andare un po' indietro e ho scoperto che ci sono anche addirittura due fondazioni che si contendono diciamo il ruolo di tutela delle opere, della memoria, anche dell'oggettistica dei musei, dei cimeli che riguardano la vita di Anna Frank, però ecco potete interessare, dopo nel link vi metterò un articolo che ricostruisce bene tutte le vicende, che fa anche riflettere sull'aspetto proprio del diritto d'autore, scritto dall'amica Antonella De Robbio che si occupa anch'essa di formazione in ambito di diritto d'autore, lo aggiungo dopo nel link, è un articolo che si intitola, che cosa ci insegna il diario di Anna Frank su copyright, pubblico dominio e content mining, content mining perché ecco questa non caduta in pubblico dominio inibisce anche e non permette l'attività di alcuni ricercatori che potrebbero fare una rielaborazione anche in versione XML ed estrarre informazioni dall'opera, vabbè vi lascio poi leggere l'articolo, ecco però un esempio davvero molto molto indicativo, molto emblematico di come è facile cadere in tranelli e come davvero il pubblico dominio sia più una chimera che una realtà, quando si tratta di capire se un'opera di un noto autore, un'opera letteraria di un noto autore, di un noto poeta o scrittore è caduto in pubblico dominio, tendenzialmente basta andare a vedere la data di morte, non so voglio sapere quando sono cadute in pubblico dominio le opere di Gabriele D'Annunzio, vedo che D'Annunzio è morto nel 38, faccio il mio conto e in teoria 1 gennaio del 2009 le opere diventano di pubblico dominio e quindi ripubblicabili da chiunque, se però succedono episodi di questo tipo o comunque si creano situazioni di questo tipo di incertezza sulla titolarità dell'opera, sull'eventuale derivazione, attività di rielaborazione creativa, ovviamente le traduzioni, ecco non l'ho detto, nel senso prima ho parlato del diario di Anna Frank in lingua olandese, chiaramente le traduzioni hanno i diritti dei traduttori, di coloro che hanno curato poi le traduzioni, quindi se succedono queste, se ci si infila in questi meandri, in questi diciamo vicoli un po' più tortuosi, il diritto d'autore diventa materia molto meno semplice, molto meno lineare di quello che normalmente si può credere. Niente, volevo raccontarvi questa storia, la uso spesso come esempio nei miei corsi, se andate a vedere le slide, nei miei corsi ho una classica slide sul pubblico dominio, in cui faccio vedere che ci sono tre forme di pubblico dominio, questo di cui vi ho raccontato, cioè il fatto che un'opera dopo un po' di anni, un'opera retare soprattutto dopo un po' di anni, diventa di pubblico dominio e quindi è liberamente utilizzabile a chiunque, ecco presta il fianco a situazioni come queste, poi ci sono altre due situazioni, altre due case in cui si manifesta pubblico dominio che adesso vi lascio scoprire da soli se avete curiosità di andare sulle mie slide, dopo magari vi lascio i link diciamo in calcio a questo video. Niente, vi ringrazio per l'attenzione, spero di aver generato in voi la curiosità di andare ad approfondire il tema e ci sentiamo per ulteriori approfondimenti, per spunti futuri e per corsi di formazione che nei prossimi giorni e settimane terrò in giro per l'Italia, quindi spero di vedervi al più presto. Grazie, un caro saluto, alla prossima!